Grazie Ministro. Il numero degli incidenti automobilistici che si verificano annualmente sulle strade urbane ed extraurbane italiane, malgrado i diversi tentativi di ridurne la portata, non accenna a diminuire in maniera significativa. Emerge quindi la necessità di interventi immediati e innovativi sul tema della sicurezza stradale, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta affrontando in modo organico. In tal senso i dispositivi elettronici di controllo della velocità, i cosiddetti autovelox, sono certamente strumenti utili per limitare danni e incidenti, ma occorre evitare che si trasformino in una vessazione per gli automobilisti, disciplinandone finalmente l'uso. Si chiede quindi quali iniziative di competenza si intendono adottare per regolare l'utilizzo degli autovelox a beneficio della sicurezza stradale. Grazie. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere a lei, Ministro Salvini. Ringrazio il Presidente e gli onorevoli colleghi. Il Ministero, che ho l'onore di accompagnare, di guidare da sette mesi, ha avviato da subito un confronto con le amministrazioni competenti e con le associazioni delle vittime della strada per realizzare un pacchetto di misure normative e amministrative finalizzate a migliorare la sicurezza stradale. 3.120 morti registrati l'anno scorso sono un dato indegno di un Paese civile. Un primo provvedimento, frutto del confronto con gli esperti e con le principali associazioni di cui parlavo, è addirittura d'arrivo e sarà oggetto di discussione, penso, a partire già dal mese di giugno. Si tratta di modifiche puntuali al codice della strada insieme di una legge delega per la riforma organica dello stesso codice della strada che contiamo di portare a breve all'esame di queste camere. Tra le priorità, non le elenco tutte, in primis c'è il contrasto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, il cosiddetto ergastolo della patente. Il nostro obiettivo è garantire effettività all'impegno di non fare uso di stupefacenti o di abusare di alcolici e superalcolici, rischiando poi di portare morte sulle strade italiane. Ovviamente ci sono altre soluzioni come l'alcol lock che inibisce l'avvio dell'autovettura in caso di stato di ebbrezza, così come abbiamo immaginato una serie di misure volte a sospendere la patente di guida in relazione a sistematiche violazioni del codice della strada. Infine, il pacchetto interverrà anche sulla mobilità dolce, sulle due ruote che non erano disciplinate ovviamente nel 92, prevedendo casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette. Proprio stanotte in provincia di Brescia è stato ucciso un ragazzo che andava in monopattino da un ragazzo che andava in moto. Sugli autovelox, soggetto anche dell'altra interrogazione, stiamo lavorando perché siano uniformati a livello nazionale e siano strumento di utilità nel salvare vite e non siano unicamente in alcune situazioni usati per fare cassa, per rimpiguare le casse comunali. Un conto è tutelare la sicurezza stradale, un conto è intervenire in situazioni non opportune su quello che riguarda la mobilità stradale. Comunque io penso che entro il mese di giugno le Camere potranno cominciare a dare il loro prezioso contributo per un codice della strada che si propone di portare più regole, più educazione e più sicurezza sulle strade italiane. Ringrazio Ministro Salvini. A facoltà di replicare il deputato Pretto. Prego, lei la parola. Grazie Presidente. Signor Ministro, noi siamo pienamente soddisfatti di questa sua risposta. La sicurezza stradale è una questione di primaria importanza per il nostro Paese e le sue parole confermano che il Governo è impegnato a garantirla a tutti i cittadini che utilizzano le nostre strade, anche con una seria riforma del codice della strada che semplifichi e chiarisca le norme ed aumenti le pene per chi commette delle violazioni, oltretutto prevedendo campagne di sensibilizzazione sul tema. Quindi prevenzione ed educazione da un lato, sanzioni dall'altro. Quanto alla regolamentazione degli autovelox, il tema è particolarmente sentito da cittadini e istituzioni. Gli autovelox sono strumenti utili per la prevenzione degli incidenti stradali, ma è altrettanto importante che siano utilizzati in modo corretto e trasparente, evitando eventuali abusi e garantendo che gli automobilisti siano trattati in modo equo e giusto, senza vessazioni e distorsioni. Desidero dunque ringraziarla, Ministro, per le risposte fornite per l'impegno che sta dimostrando quotidianamente su queste tematiche di primaria importanza per il nostro Paese. Sono certo che le misure adottate dal Governo saranno efficaci nel prevenire gli incidenti stradali e nel garantire la massima sicurezza per tutti i nostri cittadini. Grazie.